Da lunedì 4 a mercoledì 6 marzo si svolgerà la prima edizione di Pizza Academy Tramonti nell'incantevole scenario della città di Tramonti in costiera amalfitana, organizzata dall'associazione Pizza Tramonti in collaborazione con il distretto turistico Costa d'Amalfi. Giornalisti, critici, influencer e i più importanti esponenti della pizza presenti in Italia. Tante le iniziative in programma, tra cui visite presso caseifici, botteghe artigiane, vigne secolari e limoneti nel cuore della costiera amalfitana. Pizza Academy Tramonti, il mondo della pizza è qui! Grazie a tutti!